Io penso che noi dobbiamo provare a lavorare su una pista di ricerca, su una strada relativa alla modalità di pensare l'integrazione o l'inclusione sociale, che provo prima a descrivere e poi a concettualizzare. Nella descrizione a me pare che il primo punto che abbiamo su cui agire è quello della lingua, nel senso che a me pare che il punto fondamentale su cui lavorare è quello che l'italiano sia una lingua conosciuta da tutti quelli che vengono in questo Paese, non nel senso che la devono conoscere prima, come qualcuno pensa, ma nel senso che in Italia sia possibile conoscere l'italiano. Penso che questo è un punto fondamentale che permette di parlare con i propri figli anche quando i propri figli vanno a scuola e iniziano ad avere come prima lingua l'italiano, che permette di parlare con gli insegnanti dei propri figli, con i vicini, di fare la spesa, di andare al mercato, permette di guardare un telegiornale in italiano invece non necessariamente attraverso un satellitare di guardare il telegiornale di qualche altro Paese, permette di leggere un giornale banalmente. Quindi io penso che questo è il punto fondamentale, come sempre dire punto fondamentale vuol dire fare una gerarchia discutibile, ma diciamo a mio parere questo è un punto centrale e penso ad esempio che stiamo lavorando su questo, che dovremmo tentare di far sì che il 2007, di provare a lanciarlo come un anno in cui partiamo su questa questione della lingua italiana in tutte le forme possibili. Tutte le forme vuol dire ovviamente la lotta alla dispersione scolastica, nel 2004 il Ministero dell'Interno incensiva 320.000 circa minori in età scolare figli di immigrati e il Ministero dell'Istruzione incensiva 220.000-230.000, vuol dire che abbiamo un tasso di dispersione scolastica forse non è il 30, forse qualcosa meno, ma insomma significativamente più alto di quello che è la dispersione scolastica per le bambine italiane. Però vuol dire lotta alla dispersione scolastica, vuol dire organizzare corsi nel pomeriggio per adulti, vuol dire abbiamo chiesto, stiamo lavorando con le organizzazioni sindacali per rivitalizzare le 150 ore dove sono previste nei contratti, vuol dire penso provare a fare e stimolare la possibilità di fare quelle che una volta si chiamavano i corsi di alfabetizzazione popolare, scuole popolare, insomma tutta quella roba che negli anni 70 in particolare, in parte anche negli anni 80 più istituzionalizzata diciamo sulle 150 ore, permise a moltissime persone italiane di prendere le licenze elementari e medie e di imparare a leggere e scrivere correttamente, essendo che questo non era un dato acquisito. In più stiamo vedendo se si riuscirà a fare qualche esperimento di fare corsi di italiano nei luoghi dove in particolare penso alle moschee ma in generale alle strutture ecclesiastiche, tra virgolette, perché non sfugge che tra uomini e donne non c'è lo stesso grado di accesso all'imparare l'italiano, tra i maschi la cosa è un po' più alta, tra le donne è più bassa, perché se l'occupazione femminile tra le donne immigrate o è quello dell'assistente familiare, la cosiddetta badante, o sovente è di stare a casa e lo stare a casa vuol dire stare a casa, non avere contatti molte volte. E quindi ad esempio l'idea che, mentre può essere più difficile per una donna andare alla scuola pubblica al pomeriggio avanti, magari è più semplice che si vada nella moschea e che nella moschea ci sia il corso di italiano. Quindi secondo me questo è un punto decisivo, diciamo così, e su cui bisognerebbe tentare di farne un grande processo di partecipazione a tutti i livelli, diciamo, e un grande processo di incontro, di incontro non so come definirlo altrimenti, di inclusione sociale in cui il percorso di imparare la lingua diventa un percorso di inclusione sociale. Questo a me pare il punto principale. Legato a questo io vedo tre altri livelli.